Significativo è il contrassegno graffito con una punta sotto il piede del grande cratere avvolute a figure rosse del 510-500 a.C., probabilmente rinvenuto in un luogo non meglio precisato della campagna retina e realizzato dal celeberrimo Eufronios, uno fra i più importanti maestri e innovatori delle cerchie artigianali ateniesi. Il contrassegno è simile ad altri presenti su vasi attici, soprattutto rinvenuti a vulci, e si può interpretare come monogramma, leggendovi Za o Az, forse l'iniziale di un nome di persona come Zamaie. La sua funzione è dunque quella di marchio commerciale di un mercante etrusco che lavorava nel mercato greco, sia acquistando direttamente dalle botteghe ateniesi, quando il marchio è isolato come in questo caso, sia comprando prodotti da altri mercanti, quando il marchio è associato ad altri. Vulci doveva essere la piazza d'affari privilegiata di questo intermediario e da qui è probabile che il grande vaso di Eufronios sia partito per raggiungere il suo ultimo proprietario.